Castel Presule, a poca distanza da Fielo Scigliar, in provincia di Bolzano, è questa la suggestiva cornice che ha ospitato la giunta dell'Euregio. Numerosi temi all'ordine del giorno. I presidenti dei tre territori dell'Euroregione, Tirolo Alto Adige Trentino, hanno innanzitutto confermato la strategia comune per ridurre il traffico su gomma e quindi l'inquinamento. A fare gli onori di casa il presidente dell'Euregio, nonché presidente della provincia di Bolzano, Arno Compaccia. Ovviamente abbiamo parlato anche di traffico in genere, ma soprattutto del tema trasporto merci transfrontaliero nello specifico. Abbiamo una linea condivisa, gli obiettivi sono pienamente condivisi, bisogna eliminare il cosiddetto traffico deviato e bisogna ridurre il traffico spostandolo dalla gomma alla rotaia. Bisogna adottare tutte le misure necessarie che devono essere elaborate in una logica di corridoio per quanto riguarda il pedaggio, pedaggio aggiuntivo, ambientale, misure di compensazione, ma soprattutto sostegno anche poi al sistema ferroviario. Il 12 giugno si terrà a Bolzano un vertice sulla mobilità che vedrà la partecipazione dei ministri di Italia, Austria e Germania. La conferma che quella della lotta al traffico è una priorità a livello internazionale. Oggi il valico del Brennero è troppo appetibile, per gli operatori del trasporto perché è troppo conveniente rispetto a tutti gli altri valichi alpini. Dobbiamo assolutamente riequilibrare questa differenza agendo su tutti i fattori di costo, non ultimi anche quelli dell'aspetto tarifario, però è chiaro che questo deve avvenire con gradualità, soprattutto pensando di alzare le tariffe per chi più inquina. L'ufficio comune dell'Euregio si appresta a traslocare. Approvata infatti la proposta di trasferire gli uffici dall'attuale sede dell'Eurac di Viale Druso. Abbiamo concordato oggi che il GECT avrà una nuova sede, la casa della Pesa a Bolzano, così adesso il GECT, l'Euregio del Tirolo, sul Tirolo Trentino, entra nel cuore della città capoluogo del suo Tirolo, una casa davvero con una storia che ha a che fare anche con la storia del Tirolo stesso e perciò la sede sicuramente appropriata. Accanto alla seduta di giunta si è tenuta come d'abitudine anche l'Assemblea Generale del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. È stata l'occasione per presentare l'ultima edizione dell'Euregio Monitor, uno studio socio-politico sulla percezione dell'Euregio da parte dei cittadini. Il nostro sondaggio ci dice che l'Euregio si trova in una situazione abbastanza positiva, specialmente per quanto riguarda la conoscenza dell'Euregio. Abbiamo un aumento riguardo all'ultimo sondaggio del 2015 e la conoscenza è tra il 75 e l'80%. Ribadendo il grande successo della dunata degli Alpini tenutasi a Trento, il presidente Ugo Rossi ha annunciato un'iniziativa per il ricordo delle vittime della Prima Guerra Mondiale. È chiaro che l'Euregio serve per valorizzare quella che è stata una storia comune, quella che è e quella che sarà una storia comune ed è evidente che l'esercizio di una memoria condivisa e fatta assieme è molto utile in questa direzione. La giunta GECTA ha confermato che nella stagione invernale 2018-2019 sarà operativo per la prima volta un bollettino valanghe euro-regionale che quotidianamente sarà a disposizione degli utenti in più lingue. È il risultato del progetto Intereg Albina che si concluderà nel luglio del 2019.